Musica Approvata la legge sul gradenigo Trasporti, norme contro l'abusivismo Fusioni di comuni In apertura della seduta del 7 luglio il Consiglio regionale ha commemorato Giovanni Alasia, già consigliere e assessore regionale, poi parlamentare, scomparso il 1 luglio L'Assemblea ha approvato la legge sull'ospedale gradenigo e nella pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione delle Confederazioni Artigiane sulle problematiche del settore attività estrative In chiusura di seduta ha infine istituito due nuovi municipi a seguito della fusione tra comuni In copertina Il 7 luglio il Consiglio ha approvato a maggioranza, il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto abbandonando l'aula La legge che modifica una norma del piano sociosanitario per consentire che l'ospedale torinese gradenigo possa essere gestito anche da un'istituzione privata con fini di lucro Con la nuova legge vengono garantiti servizi ai cittadini tra i quali il pronto soccorso e tutelata l'occupazione La seconda commissione in sede legislativa ha approvato all'unanimità Le norme che chiariscono l'impossibilità per i sistemi di chiamata di trasporto persone a pagamento tipo Uber di operare sul territorio subalpino La nuova legge specifica che il servizio di trasporto persone che prevede la chiamata con qualunque modalità di un veicolo dedicato e una corresponsione economica Può essere esercitato esclusivamente da tassisti e noleggiatori con licenza Le finalità sono quelle di garantire la legalità all'interno della nostra regione La legge nazionale e la legge regionale prevedono che un trasporto di persone con una corresponsione economica Possano svolgerle esclusivamente taxisti e noleggiatori E quindi questo abbiamo inserito all'interno della legge regionale Qualora evidentemente il Parlamento nazionale decidesse altro vedremo come modificare la nostra legge L'obiettivo era fare chiarezza e ribadire quello che era già chiaro Cioè che soltanto chi è in possesso di una licenza può esercitare l'attività di driver Abbiamo espunto dalla proposta tutte le questioni relative a un inaspiramento delle sanzioni Ma ribadiamo che è necessario aspettare un intervento legislativo Perché queste nuove forme di economia non possono essere evitate Anzi devono essere regolamentate al più presto Perfezionato l'iter per la fusione di quattro comuni in Piemonte Nella seduta del 7 luglio il Consiglio ha approvato due leggi che istituiscono Del 1 gennaio 2016 due nuovi municipi Lessona nel Biellese e Borgo Mezzavalle nel Verbano Cusiossola I due nuovi enti sono nati rispettivamente dalla fusione di Lessona e Crosa 2835 abitanti e di Viganella e Seppiana 335 abitanti Sull'argomento lo scorso 14 giugno si è svolto un referendum tra le popolazioni interessate Grazie a tutti